buongiorno a tutti sono manuele siete sul mio canale tutto fumetto come sapete io faccio questi video come estensione della mia delle mie letture cioè leggo e poi leggo parecchio tutte tutte le sere fumetti di vari generi di vari tipi poi ogni tanto faccio qualche video relativo a quello che ho letto quello che mi è colpito di più quello che mi è piaciuto di più quello che merita secondo me di essere approfondito e conosciuto oggi siamo a continuare il filone che ho già iniziato su criminal siamo a criminal numero 3 omicidio al riformatorio attenzione attenzione aprite bene le orecchie perché qua c'è parecchia roba da dire su questo numero ovviamente stiamo ancora parlando della e continueremo secondo me ancora a parlare per un po della serie che sta uscendo con la gazzetta dello sport che vede le ristampe di criminal disegnate da magnus in edicola quindi 100 numeri circa c'è un po più di 100 numeri e qua nella serie originale viene ristampato il numero 5 omicidio al riformatorio è il numero 3 della serie della gazzetta è il numero ricchieri stampa il 5 della serie originale omicidio al riformatorio io quando vi faccio i video su questi fumetti la pagina di introduzione è sempre un capolavoro qua stiamo parlando di magnus e quando magnus fa una tavola intera perché come poi alan ford eccetera il fumetto è un fumetto di 120 pagine 120 pagine circa su due vignette per pagina quindi queste sono questa è la struttura del fumetto questa è la struttura tipica del fumetto di la struttura di alan ford ancora oggi una struttura che che è tra parentesi nelle parti iniziali di questi di questa ristampa come già vi dicevo c'è una bellissima introduzione che va a spiegare un po il contesto delle storie che stiamo leggendo e in questa introduzione si parlava anche che una delle caratteristiche che ha portato max bunker in questi in questi fumetti queste sono cose che lettore base non può sapere se non è un lettore attento o un intenditore che lo può sapere una delle caratteristiche è quella di aver snellito il linguaggio meno vignette meno didascalie meno parole ma tanta tanta comunicazione data dai disegni dai disegni di magnus dall'espressione dei volti quindi un fumetto che si guarda di più si legge di meno scorre più veloce ma il leggere meno il guardare di più affatica meno quindi è un fumetto che si legge più facilmente dall'inizio alla fine e coinvolge di più se ti affatichi di meno è una strategia o comunque un'innovazione molto molto bella o comunque molto importante funzionale che apporto funzionale proprio relativo al fatto che è un fumetto che funziona di più e più funzionale alla lettura questo metodo e che ha fatto successo insomma che su cui bisogna riconoscere max bunker come per altre cose bisogna riconoscere di averci visto lungo ma d'altronde lo sappiamo che stiamo parlando per me del miglior autore di fumetti italiano poi ce ne sono altri però per quanto mi riguarda max bunker è il mio preferito numero 3 omicidio riformatorio è un numero che adesso vi devo far vedere qualche qualche immagine è il numero che ha fatto scandalo perché ha fatto scandalo perché le scene guardate queste per esempio ho già parlato del rapporto fra criminal e le donne pensare negli anni 60 di inserire in un fumetto rapporti sessuali ovviamente non disegnati ma lasciati intendere con donne consenzienti minorenni guardate c'è tutto l'albo è un anche perché ragazzi il riformatorio è la prigione dei dei minorenni sappiamo benissimo però questo è un riformatorio femminile tutta la la storia si svolge questa fa una storia interessantissima si svolge all'interno un po' all'interno ma che ha come sfondo come protagoniste delle condannate che sono in un riformatorio femminile mettere al proprio interno queste immagini lasciando intendere che queste ragazze avevano rapporti sessuali extra fuori dal riformatorio che scappavano per fare del sesso con chi? con dovete leggervelo perché sennò vi spoilero spezzi di storie ma non con solo uno per ottenere un risultato ha fatto scandalizzare la morale dell'epoca ha scandalizzato la morale dell'epoca al punto che su questa storia proprio c'è stata un contenzioso in tribunale importante relativo proprio alla questione della morale fa sorridere oggi nel 2022 discutere di questo ma in realtà è il secondo me il lo sfondo di un'epoca cioè sono proprio quegli eventi che segnalano un'epoca una parte di società che vedeva come contro la morale questi fumetti su cui poi c'è stata una denuncia un contenzioso fra la casa editrice e l'inquerente dell'epoca ed è evoluta la questione facendo o obbligando diciamo a mettere una dicitura molto chiara sulle copertine fumetti per adulti in modo che poi fosse inequovocabile che per questi fumetti per adulti appunto perché era proprio scritto caratteri cubitali ci potessero essere scene di violenza, di sesso eccetera è molto interessante approfondire questo sia perché la storia è bellissima, la storia scorre, la storia è coinvolgente e sia perché nell'anteprima di questo fumetto viene raccontata la vicenda di questa denuncia relativamente alla censura che questi fumetti hanno subito e su cui poi dopo l'autore si è dovuto confrontare mai snaturando se stesso ma per forza di cose dovendo non aumentando un po' il proprio raggio, le proprie scene di violenza diciamo che comunque quando ci si confronta con lo Stato in questo modo bisogna anche rendersi conto che poi nessuno ha voglia per un fumetto di fare una guerra per cui mi rendo conto, mi immagino io, che poi l'autore visto anche quel accanimento che ha subito dovendo allo stesso modo far buon viso, cattivo gioco, mandando avanti la serie per qualche fumetto ha, diciamo che questo poi ha influenzato la scrittura della trama delle serie successive per esempio, nei numeri successivi, poi lo vedremo, vediamo che non sempre criminal ottiene ciò che vuole sappiamo che criminal è un delinquente e quindi il delinquente si muove per soldi, si muove per rapine si muove non esitando a uccidere, ma forse mi viene da dire il fatto stesso di aver subito questo tipo di censura questo tipo di rap... che da un lato fanno pubblicità, diciamo così ma dall'altro comunque non si poteva, non poteva l'autore andare incontro al rischio della chiusura della serie quindi forse anche per quello criminal, vediamo che perde criminal perde nel senso che non ottiene ciò per cui lui diciamo combatte o comunque si sforza di ottenere se uccide, se ruba, se fa quelle malefatte tipiche di un delinquente ecco, alla fine capita proprio che criminal rimanga con un pugno di mosca in mano e questo dà anche qui il segnale di essere un passo avanti rispetto a Diabolik nel senso di non avere una storia scontata o preconfezionata in mano con Max Bunker è sempre così ma anche con Criminal veramente bisogna arrivare fino in fondo per capire cosa succede davvero e i colpi di scena sono sempre in agguato alla prossima